Sì, l'assessore Gallera ha già un tracciato di dove è la regione Lombardia su questo tema che colpisce un numero molto rilevante di persone, parliamo di oltre 10.000 casi che si verificano annualmente. Oggi noi però vogliamo dire grazie anche alle associazioni di volontariato che sono la vera risorsa di questa regione, senza le quali non potremmo garantire livelli di welfare a 360 gradi così come siamo in grado di garantirlo. Quindi il fatto di essere qui oggi a dare questo riconoscimento e affrontare un tema molto importante come quello del tumore al seno e che questa cosa venga fatta in Consiglio regionale mi fa molto piacere come Presidente del Consiglio. Dobbiamo non solo essere la prima regione attraverso le Presti Unita a fornire un servizio sanitario di eccellenza, ma dobbiamo continuare a essere la prima regione come siamo di questo. Dobbiamo solamente ringraziare chi quotidianamente offre il proprio tempo come assistenza di volontariato e di questo grande numero di persone che anche su questo tema danno la propria disponibilità per permetterci di essere la prima regione come assistenza rispetto di essere la prima regione come assistenza rispetto alla regione. Grazie. 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 Grazie.